Avrebbe contattato una mediatura per assoldare due uomini con precedenti di polizia a incendiare quattro veicoli di alta gamma nel parcheggio della concessionaria Ventriglia il 31 gennaio 2022 e due giorni dopo la vettura della moglie dell'imprenditore nelle vicinanze della sua abitazione. E l'accusa che è stata formulata dal GIP del Tribunale di Tanato su richiesta della procura ionica nei confronti del titolare di un'altra concessionaria di automobili ritenuto vicino ad ambienti della criminalità tarantina e che ha portato all'emissione di sette ordinanze di applicazione di misura cautelare se custodia in carcere un obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria per soggetti ritenuti responsabili a vario titolo e con varie condotte dei reati di incendio doloso e estorsione aggravata dal metodo mafioso detenzione porto d'armi da fuoco usura. I particolari dell'operazione sono stati illustrati dal procuratore della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia e dal questore Massimo Gambino. L'indagine della squadra mobile di Taranto ha avuto inizio all'indomani dei due incendi dolosi e si è focalizzata sui due presunti esecutori materiali grazie alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nei pressi della concessionaria e dei domicili degli stessi presunti autori e delle intercettazioni delle utenze. L'ingaggio dei due sarebbe derivato da motivi di astio e risentimento del titolare della concessionaria sotto accusa nei confronti del concorrente. Il primo avrebbe anche costretto il titolare di una rivendita di motocicli a rinunciare all'acquisizione in locazione di un locale commerciale attivo alla sua attività per tutelare l'interesse di un clan mafioso e avrebbe avuto due pistole nella sua disponibilità. Le persone ingaggiate e i familiari avrebbero anche gestito un fiorente giro d'usura e la titolare della concessionaria accusato avrebbe vantato anche vicinanza esponenti delle forze di polizia. Una zona d'ombra totalmente spazzata via dalle indagini, come sottolinea il procuratore capo Pontassuglia. Non ci possono essere zone d'ombra e non ci sono. Sicuramente non ci sono e quindi anche l'ostentazione di coperture in virtù di rapporti con esponenti delle forze di polizia deve essere smentita perché la nostra presenza qui è proprio l'attestazione della negazione di questo principio. La sinergia tra la Procura della Repubblica e la Polizia Giudiziaria, in questo caso la squadra mobile della Questura di Taranto che è un qualcosa che negli anni si è maggiormente cementata.